Buongiorno Archideria di Merosolo, Archideria di Medicina per l'Anima, vi ricordo sempre il nuovo libro Archideria, storie e personaggi, terza edizione, costa 20 euro, lo trovate o qui all'Archideria o su Amazon.it come dico sempre, tre grandi pregi, costa poco, è semplicissimo, l'ho scritto io ieri ho trovato, ieri sera e stanotte, ho trovato questi due articoli che ritengo molto importanti che ho condiviso, uno l'ho condiviso anche sul gruppo Orchideria di Medicina per l'Anima e tutti e due li ho condivisi sia sul mio profilo Giancarlo Pozzi che su Orchideria cominciamo con questo, vi leggo solo alcune parti recentemente si sono rese evidenti alcune gravissime situazioni dell'intero pianeta la mostruosa sovrappopolazione umana, quasi 8 miliardi ricordo che quando andavo a scuola io, quando ero ragazzino che andavo all'elementare la terra diceva che aveva 2 miliardi di abitanti, adesso siamo arrivati quasi a 8 i rapidi cambiamenti climatici, la crescente estensione di specie, l'accumulo di rifiuti indistruttibili il tragico consumo di territorio, la distruzione di foreste e di numeri vari altri ecosistemi mi salta un po' di cose, vi dico solo alcuni punti se ci mesciamo appena un po' risulta evidente che la causa prima di tutti i guai sopra citati è la crescita economica che mette materie inerte al posto di sostanza vivente cioè praticamente mette materiali inerte, cemento, asfalto, così al posto di sostanza vivente consuma risorse e produce rifiuti ed è quasi assolutamente incompatibile con il sistema biologico terrestre il Covid-19 ha tutta l'aria di essere un tentativo di difesa della terra per liberarsi dal suo mare, cioè della crescita economica qui mi viene in mente, l'ho già detto in un altro video un cliente di Verona, un collezionista di vecchiaia di Verona una volta parlare a lui più o meno la mia età gli ho detto, ma quando dovevo scuola io eravamo due miliardi adesso è diventato otto miliardi poi qui, distruzione di tutte le foreste, inquinamento così e lui mi ha detto, non ti preoccupare che ci pensi alla natura prima del Covid questo mi ha detto, ci pensi alla natura un'epidemia, una guerra, così vedi che ci metti a posto comunque se andate poi sul gruppo e anche sul mio profilo ci sono tutte e due non vi sto qui a leggere tutto, volevo leggervi questo qui evidenze scientifiche concernenti grandi alberi in città e la salute e la vita dei cittadini qui ci sono, c'è tutta una bibliografia per tutto quello che dice poi rimanda a tutta la bibliografia per andare a controllare allora, come è noto, ISDE, Medici per l'Ambiente svolge una mission di una sola inglese cioè di fornire evidenze scientifiche ai cittadini e decisori politici per poter effettuare le scelte migliori per la tutela della salute allora il problema del dissesto del mato strassi qui dice che i grandi alberi funzionano molto molto meglio degli alberi giovani come per combattere l'inquinamento e allora allora preoccupo tuttavia le conseguenze sulla salute a seconda che vengono scelte soluzioni conservative o di taglio dei pini sia pure o più tanto altre scienze esiste ormai una consolidata letteratura scientifica che dimostra in modo inequivocabile che gli alberi, in particolare quelli di grande dimensione esercitano sulla pressione effetti estremamente benefici per alcuni altri a quelli di un farmaco ne elenco solo alcune facendone la bibliografia l'ambiente è ricco di verde effetti neuroprotettivi la vicinanza di alberi produce rinascita di nuovi neuroni e cervelli ultra settantenni come il mio ricominciano a funzionare come cervelli giovanili il professor Quinn Lee ha svolto qui due rimandano la biografia una vastissima indagine su tutte le prefetture del Giappone 126 milioni di abitanti evidenziando che nei luoghi dove è maggiore la copertura delle chiome degli alberi è significativamente minore la mortalità per i principali tipi di cancro sia negli uomini che nelle donne negli Stati Uniti ci sono 7 miliardi di frassini un piccolo insetto proveniente dall'Asia finora ne ha uccise 100 milioni e nelle 15 conti americane dove la morte dei frassini è stata maggiore tra il 1990 e il 2007 si è verificato un eccesso di 15.080 morti premature per malattie cardiovascolari e 6.113 morti premature per malattie delle basse vie respiratorie dove scompaiono gli alberi muoiono più le persone viceversa varie ricerche mostrano che gli alberi ci allungono la vita avere più alberi significa avere più felicità per ottenere benefici significativi sono sufficienti pochi alberi uno studio condotto a Toronto ha dimostrato che avere 10 alberi in più in un isolato migliora la salute come un aumento del reddito annuale di 10 mila dollari dati che possono fare riflettere prima di tagliare anche solo pochi alberi in un quartiere urbano soprattutto quando si parla come nel caso dei pini di grandi alberi una ricerca pubblicata su Nature che ha coinvolto 38 ricercatori provenienti da 16 paesi ha dimostrato che gli alberi più grandi e più vecchi in estate per evapotraspirazione raffreddano ciascuno come 20 condizionatori assorbono inquinanti a CO2 molto maggiori degli alberi giovani ed emettono più ormoni benefici monoterpeni anti cancro infine tagliare i grandi alberi accedere ai cambiamenti climatici è uscito su Nature di aprile 2019 un importante articolo scientifico che mostra come sono le foreste lasciate la loro evoluzione naturale ricca di biodiversità possono essere potenzialmente efficace nel pensare a CO2 in eccesso e via e così e tante altre cose comunque adesso io ho letto una volta ogni tanto mi viene in mente ma non mi ricordo più dove che l'ho letto ho letto che una frase bellissima diceva che chiunque pensi che ci possa essere una crescita infinita su un pianeta fisicamente finito o è un pazzo o è un economista al giorno d'orci non so io qui perché come vi ho detto un'altra volta ogni ogni azione che facciamo porta delle conseguenze tutto questo è dovuto anche il consumismo nostro no quando consumiamo un sacco di roba che produciamo un sacco di rifiuti così cioè siamo noi stessi che contribuiamo a questa roba qua dobbiamo cambiare il nostro stile di vita dobbiamo soprattutto imparare quando andiamo a votare votare le persone giuste e dobbiamo fare le nostre scelte orientandole verso la conservazione della della natura quando andiamo a fare la spesa privilegiamo prodotti che non inquinano che non creano problemi alla natura che non creano deforestazione a cosa del genere ci sono un sacco di cose in internet trovate un sacco di informazioni di questa roba qua leggete questi due articoli leggete li perché sembra che siamo quasi arrivati a un punto irreversibile i tanti ghiacciai si stanno estinguendo i poli si stanno ris riscaldando anche lì si stanno sciogliendo le acque il livello del mare tende ad rialzarsi e città come venezia così si prevede che saranno sommersi se andiamo avanti così tagliamo l'albero su cui siamo seduti e per cui allora gli amanti dell'orchidee sono amanti della natura per cioè essere amanti dell'orchidee comporta essere amanti della natura per cui gli amanti dell'orchidee dovrebbero cominciare appunto orientare le loro scelte in modo da salvaguardare il pianeta poi cosa succede negli allevamenti intensivi degli allevamenti intensivi è una cosa orribile è un orrore che non ha fine cioè che proprio date vedere qualche filmato sui allevamenti intensivi ogni tanto le pubblicavo sul mio profilo giaccaro porsi li guardavo quasi nessuno è perché è più comodo voltare la testa dall'altra parte perché se simpissimi formati un momentino come funziona questi elementi intensivi vedete ieri c'era su ho visto su youtube c'era un filmato di un cavallo che è morto di fatica così c'era tutti che si indignavano andate a guardare cosa succede agli interventi intensivi allora si dovete indignarvi con i marcelli vabbè domani per le mani il prossimo video parliamo di orchidee adesso facciamo un video lunedì mercoledì venerdì perché tutti i giorni non ce la faccio mica ok